E' in programma domani alle 10 nel carcere di Avellino l'udienza di convalida del fermo dei due giovani accusati di tentato omicidio per il ferimento che ha ridotto in fin di vita domenica mattina il 21enne Roberto Bembo. Il giudice delle indagini preliminari Paolo Cassano alla presenza dell'avvocato Gaetano Alfiero, difensore degli indagati, contesterà ai due 23enni di Mercogliano le responsabilità che emergerebbero dalle indagini della squadra mobile di Avellino. In particolare quelle che riguardano uno dei due ragazzi che secondo gli investigatori avrebbe materialmente accoltellato Roberto Bembo dopo averlo più volte colpito al volto con un tirapugni. Tre fendenti, uno dei quali ha sfiorato la carotide della vittima a conclusione di una rissa che sarebbe stata originata da un indiverbio per questioni di parcheggio nei pressi del bar di via nazionale Torrette. La ricostruzione dei fatti che gli investigatori hanno consegnato alla procura di Avellino che vede direttamente impegnati nel coordinamento delle indagini il procuratore capo Domenico Airoma e il sostituto Vincenzo Toscano è stato ricavato dalle numerose testimonianze raccolte a cominciare dalla prima mattinata di domenica e dalle immagini registrate delle telecamere installate nella zona.